aiutatemi, sono sincero, aiutatemi, c'è qualcuno? c'è qualcuno? che è successo? casino è successo, casino mi piace, stavo a dire che è solo questa macchina c'è, e dì, che è successo? vabbè lo devo dire perché stavo con la mia ragazza vabbè stavo in un momento andando, cioè a un certo punto noi ci amiamo, non è che dice che non ci amiamo, vabbè mi ha preso la mano ha detto promettimi che non cambierai mai, e me l'ho fatto 30 km con la prima, che cazzo a me, fammi me, quindi alle volte nella vita bisogna cambiare